In caso di vittoria di Pliskova e Williams, Pliskova qualificata come prima del girone, Ostapenko è eliminata. Williams e Muguruza si giocheranno la qualificazione giovedì. In caso di vittoria di Pliskova in due set e di Ostapenko in tre. Pliskova qualificata, posizione da definire, in caso di vittoria di Muguruza e Ostapenko. Muguruza qualificata come prima del girone, Williams è eliminata. Ostapenko e Pliskova si giocheranno la qualificazione giovedì. In caso di vittoria di Muguruza in due set e di Williams in tre. Muguruza qualificata, posizione da definire. Tutte le altre combinazioni rimanderanno il discorso qualificazione alla giornata di giovedì. Vieni mage on Twitter. Vieni mage on Twitter. Followed. WTA Insider. Chiocciola. WTA. Sottolineato Insider. After Day 1. Chiocciola Vita Finals. Muguruza. Il primo. Pliskova. Il primo. Venus. 01. Ostapenko. 01. Tuesday. Venus Ostapenko. Pliskova Muguruza. Scenarios. 9 e 14 della notte, 8 22, 2017. 2-2 repli e 68-68 retvez 113 mila, 113 liches. Twitter ads in Juan Privaki. Gruppo Rosso. Prima giornata. Le vittorie di Alep e Vozniaki. In caso di vittoria di Alep e Garcia. Alep qualificata come prima del girone, Svitolina è eliminata. Garcia e Vozniaki si giocheranno la qualificazione venerdì. In caso di vittoria di Alep in 2-7 e di Svitolina in 3. Alep qualificata, posizione da definire. In caso di vittoria di Vozniaki e Svitolina. Vozniaki qualificata come prima del girone, Garcia è eliminata. Svitolina e Alep si giocheranno la qualificazione venerdì. In caso di vittoria di Vozniaki in 2-7 e di Garcia in 3. Vozniaki qualificata, posizione da definire. Tutte le altre combinazioni rimanderanno il discorso qualificazione alla giornata di venerdì.